e carissimi amici carissime amiche mie salve buon sabato a tutti e notte fonda faccio un breve commento su su questo grado per quanto riguarda il pezzo di Liliana Resinovic non ci sono ovviamente delle novità c'è Sebastiano lì insomma pronto per l'agonia come al solito niente si parla di un esperimento fatto mettendo dei sacchi sull'edera lì del boschetto e giustamente si vede che dopo 20 giorni di l'edera tutta secca e ingiarlita diciamo che è diciamo la prova se mai ce ne fosse stato bisogno che il corpo ben difficilmente può essere stato lì ma su questo siamo un po tutti d'accordo il corpo è stato portato lì ora la donna o è morto il 14 o è morto qualche giorno prima ma comunque è stato portato lì quindi ciò avalla ancora di più quella che è sempre stata la mia convinzione che che ci sia una sorta di organizzazione a monte è qualcosa di organizzato perché non si può imputare a capo di una singola persona il fatto di di uccidere nascondere riportare senza altra è qualcosa di organizzato però questo diciamo non viene nemmeno nemmeno accennato ecco che si c'è sempre un retropensiero in questo gossip e sapete qual è ma c'è da sperare che il giorno 15 di dicembre la dottoressa cattanea possa finalmente mettere la parola fine a questa penosa sceneggiata diciamo quindi ci sono così delle scaramucce le solite parole parole sprovedute anche dette da sebastiano che a un certo punto lì lì in trasmissione dice accennando a sterpino dice vogliamo tutte e due la verità d'altronde siamo due e cerchiamo la verità vedete questo esempio è un'altra espressione che va a mancare al mio modo di vedere rispetto verso l'iriana perché non credo che che entrambi possono essere accomunati del nella ricerca della verità almeno dal punto di vista di sebastiano perché se voglio dire se tu sebastiano sai vedi che serpino ti accusa di blatamente di essere due responsabili addirittura di delitto premeditato com'è che puoi uscirtene così semplicemente e ignobilmente direi con questa espressione cerchiamo tutte e due la verità se lui ti accusa o fa capire che tu puoi essere responsabile addirittura di un omicidio premeditato non è che che puoi dire e stiamo cercando la verità tutte e due poi che cosa si parla si vale delle celle delle celle telefoniche in relazione sempre a quel giro che in bici che aveva fatto sebastiano il giorno il giorno della scomparsa il 14 dicembre e allora vai a vedere vai a scoprire no non è vero che c'è più l'anomalia della cella telefonica perché è stato visto che il ripetitore non sta dove è segnato ma sta su un'altura che potrebbe essere compatibile insomma praticamente a lui i sospetti crollano allora interviene la marano no ma noi non è che diciamo il fatto della cella ma è soprattutto perché il telefono aveva spento il telefono non prendevi il telefono e ancora il fatto è stato tre ore nel laboratorio non c'è stato è stato non c'è stato il consumo elettrico è poco è molto è abbastanza c'è tutte cose sempre insomma delle solite le solite ghiacchie delle solite cose perché e perché perché c'è questo tizio questo questo marito lì è a sentire il solito però la mia riflessione è sempre la solita ma non si parla di sterpini vedete ora se questo personaggio si qualifica come amante senza che ci sia la minima dimostrazione perché poi vedremo i messaggi che sono una cosa clamorosamente incredibilmente no e allora dico perché non non fanno le stesse domande gli stessi approfondimenti la stessa volontà di dire le stesse cose no perché perché si parte dal presupposto che quella era l'amante che questa donna volesse andare davvero da lui e qui la riserva mentale che che fa scimonire qui che 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 tutto sbagliato che si prende questo questo marito e si dice vediamo a che ora è andata a casa a che ora è uscita a chi ora ha fatto questa che ora è stato in bici perché lui è il sospetto lo serpino e il vangelo e era la salvezza era 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 l'uomo della provvidenza capite è tutto una una follia veramente una deriva televisiva senza senza fina senza fina quindi una questione di lana caprina che non portano a niente poi interviene la collovatica a me l'abbate la collovatica danno un minimo di di ragionevolezza questo colloquio a senso unico giustamente abbate dice sono accuse inutili ogni settimana a senso unico che non portano a niente e addirittura come si può dice ascoltare l'avvocato cozza la madrano che insinuano che il sebastiano non è stato nel laboratorio e quindi se non è stato nel laboratorio e quindi potrebbe quindi sono insinuazione lui potrebbe aver fatto chissà cosa eccetera eccetera e quindi dico ma veramente perché continuare con questo senso unico assurdo quando quando ragionevolezza potrebbe che si facesse la stessa cosa se non di più nei confronti di questo serpino che è venuto a dire a raccontare di una storia d'amore che poi ci ha detto in un modo e che non esiste ecco è incredibile che avvenga tutto questo grazie a lungo ad esempio grazie a lungo interviene e a un certo punto vedete come come questo gossip è fuori controllo perché grazie a lungo la signora il rosso dice rivolta alla marana dice vabbè ma io poi non capisco dottoressa marano ma poi fare questa ipotesi che il corpo sia stato portato lì sempre riferendosi a sebastiano come autore dice come faceva costui sebastiano a portare il cadavere nel boschetto dopo tanti giorni ma ci rendiamo conto e la mano dice vabbè io questo non questo non lo sappiamo dice no no questo questo non lo sappiamo c'è come avrebbe fatto questo chissà fosse con la sua organizzazione di di malavita e dispiace di vedere ancora questo questo uomo confuso seduto lì in mezzo a farsi processare e non dire davvero fuori dai denti verificate controllate serpigne le sue telefonate non dette le sue cose tenda a un certo punto si di dire qualcosa circa il centro di smistamento circa il fatto che si vedevano al cimitero che sono stati multati circa che si vedevano nella cantinola circa che si vedeva nella soffitta chissà quale mistero viene taciuto dice però però poi viene subinterrotto su questo perché giustamente la narrazione e lo share televisivo non va nei confronti di insinuare dubbi su sterpigne ma bisogna puntare il faro sempre in una sola direzione quindi la narrativa è sempre la stessa non c'è niente però te lo dico io sarebbe interessante ai fini della verità invece vedere perché non si approfondisce anche nei confronti di questo personaggio che si è inventato la qualunque quello che diceva non parlava di questi messaggi che sono usciti fuori lui diceva no ma noi non avevamo bisogno di messaggi le cose ce le dicevamo da vicino di questa persona che che diceva di come era nata una sorta di mini frequentazione dopo fine agosto 2021 e che poi l'amore da lui era stato condisposto il 25 ottobre 2021 e poi tutti questi messaggi evidentemente lo hanno spiazzato perché se veramente questi messaggi fossero d'amore allora lui era già al minimo un paio di anni che che era reciproca questa cosa quindi lo ha spiazzato di brutto ma sono nessuno ha parlato della della delle assurdità di questi messaggi criptati e cancellati criptati e cancellati senza alcun ragionevole motivo non se ne è parlato non se ne è parlato non si è approfondito questo che è l'unica cosa certa che questa relazione si configura grande grandissima ma non d'amore qui è il punto della della vicenda che che poi si dice uno è idiota altro che il punto è questo perché criptare e cancellare perché usare dei codici perché usare dei codici e codici tradotti a modo proprio e che si chiama la gentina che a casa con i codici e che si chiama i codici dietro al quadro detto dal fratello sergio perché queste criptazioni che che vengono e vanno e vengono in questa storia e soprattutto perché sterpini che viveva da solo cancellava e soprattutto perché sterpini che viveva da solo invece di ricevere diciamo la presunta amante a casa sua che viveva da solo perché la figlia che viveva in un altro appartamento usciva la mattina veniva la sera per quale motivo c'era bisogno di andare a sedersi in una cantinola in una soffitta o di fronte al cimiter ma che avevo di che fare quindi quante cose strane sono state dette perché lo sterpino addirittura diceva io ti duro poco e lei e lei avrebbe detto immaginate sta cosa se anche migliori sei mesi io avrò realizzato il sogno della mia vita ma immaginate una cosa del genere ma immaginate che lui una volta ebbe a dire serpino vedete se non è una cosa che uno può soppostare dice vabbè poi io quando non ci sarei stato più lei poteva anche ritornare dal marito quindi magari se duravo poco lei poi tornava indietro dal marito quindi una sorta di una firma di una liberatoria un comodato d'uso gratuito un prestito a tempo cioè ma come questa è mancanza di rispetto di dignità alla memoria di questa donna che si vede tirata in questa storia che non esiste in queste cose il degamerone che cosa triste che come come davvero squallida questa questo gossip televisivo quindi non 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 si parla di questo quindi ogni settimana abbiamo questo marito lì seduto a farsi prendere in giro perché l'annasazione deve essere la donna voleva andare alla storia d'amore la donna viveva la storia e vi ripeto questi messaggi che sono usciti che usciranno che in cui non c'è mai la parola amore sempre criptati e cancellati sono la dimostrazione dimostrata che non c'era amore c'era qualcos'altro ma non amore questa è la grande verità che viene fuori viene fuori davvero così forte che ha rappresentato un boomerang enorme per serpini che diceva che era negli ultimi mesi che era maturata la morte che era dal 25 ottobre e se trovate invece essere smentito da da chi ha recuperato questi messaggi che lui aveva cancellato e dire no allora non era reciproca dal 25 ottobre 2001 ma da anni prima mi sono sbagliato ho raccontato una cosa per un altro come a fine agosto al cimitero non avevi detto avevo informato Liliana che non ci vedevamo da tanto tempo che ero rimasto vedo tutto inventato anche questo tutto inventato anche questo possibile mai una cosa del genere quindi si aspetta soltanto che la dottoressa Gattani il giorno 15 possa finalmente depositare tutto e così si metta fine questa triste storia vista e considerato che la verità non si è voluto cercare a 360 gradi e la figura di Liliana è stata trascinata in un vortice dove è mancato tanto il rispetto per la sua persona e soprattutto mi è dispiaciuto che è stato dato credito a questa storia negata dallo stesso Serpin che ha visto tutta la sua nasazione in un momento gettata via perché tutto quello che lui aveva detto poi alla fine non è stato vero tutto quello che ci aveva nasato sul fatto ad esempio anche della telefonata dalle 8.22 di quella mattina in cui dice io l'avevo rimproverata perché non si era fatto sentire da diversi giorni quando proprio il giorno prima aveva avuto la più grande telefonata quella di 16 minuti quindi vedete proprio un caos quella telefonata che secondo me è proprio il nocciolo, il clou della vicenda perché il giorno 13 quella telefonata di 16 minuti è la fondamentale lei Liliana non aveva mai telefonata per 16 minuti e lì secondo me che si rompe qualcosa di clamoroso e che è costato la vita e lui ebbe a dire lei è morta, si è sacrificata, si è sacrificata per me perché cosa? lei è morta perché si è sacrificata per me vedete quante cose che non vanno e vogliamo credere alla storia d'amore eh signori miei, eh signori miei mi dispiace, niente di nuovo spero che la dottoressa Cattaneo abbia veramente modo di far finire questa triste vicenda grazie, condividete dappertutto con i vostri amici ed amiche grazie, buon sabato, un abbraccio a tutti quanti voi grazie, buon sabato, un abbraccio a tutti quanti voi grazie, buon sabato, un abbraccio a tutti quanti voi grazie a tutti Grazie a tutti.